Sì, avevo paura per questa partita, avevo paura, ma la decide Paolo Di Bala Paolo Di Bala con la numero 7, al minuto 7, sul calcio di rigore Paolo Di Bala, e la Di Bala Mask, e la Di Bala Mask Indossa anche tu la Di Bala Mask, e la Di Bala Mask Grande, grande Paolo, grande Sempre decisivo, sempre decisivo Oggi è stata importante questa vittoria Importante, adesso posso chiamare la classifica La classifica, e io partirei subito da quella Partirei subito dalla classifica Ma prima di tutto ciò, ciao ragazzi e bentornati in questo video qui a Giapez Bentornati in questo video qui a Giapez, oggi siamo in un nuovo video, siamo appunto qui nel Giapez Commenti nel commentario, il post partita di Torino-Roma 0-1, vittoria importantissima, decide il gol di Paolo Di Bala al 7, al minuto sul calcio di rigore Appunto lo segna, rigore che ci stava, mano larghissima E segna Paolo Di Bala sul rigore, ma prima vi ricordo come al solito lasciare Un mi piace per supportare questo video, un commento nella vostra Se avete visto la partita ovviamente non vi costa niente, un pollice in su è sempre Devo dire dopo il corte, sia tanto non pagate per lasciare un mi piace Perché ero sempre troppi pochi mi piace Ragazzi quando vedete il video non costa niente Prima di commentare il video lasciate un mi piace e poi commentate Ecco fatelo come iniziativa Comunque vi ricordo che se comunque siete nuovi iscrivetevi al canale Sono un canale che parla di calcio a 360 gradi Dopo questo video uscirà anche il post partita di Lazio-Juventus Vi ricordo che uscirà anche la live reaction La trovate qua sopra nelle schede a fine video Quindi recuperate la live reaction per chi se l'aveste persa E vi ricordo che dopo ci sarà il post partita di Lazio-Juventus Quindi seguitemi anche dopo Ovviamente Se vi va, sempre se vi va Seguitemi su Instagram, mi raccomando Instagram, TikTok, la piattaforma viola, tutti quanti i miei social Li trovate sotto in descrizione Mi raccomando è importante, anzi Il link della live reaction ve lo lascio anche bloccato nel primo commento Comunque recuperate e seguitemi su tutti quanti i social sotto in descrizione Parliamo della partita e iniziamo subito da quello che vi ho detto prima Ovvero la classifica e poi mano a mano andremo a spulciare a fare il post partita Però voglio partire proprio dalla classifica Classifica il Napoli che vabbè ormai sta già facendo il campelato 2023-2024 Ormai io sono rimasto praticamente 3-4 vittorie e il Napoli ha vinto matematicamente lo scudetto Comunque Napoli prima 74 La Lazio seconda 55 ma deve giocare Occhio alla Juventus è una partita da tribla Poi c'è la mia Roma, la magica S Roma Si porta al terzo posto La Roma è terza in classifica La Roma è terza in classifica Sopra il Milan a 52 punti Sopra l'Intra a 51 punti Sopra l'Atalanta che si è affermato oggi ha perso in casa col Bologna Gasperini Cotto Gasperini Cotto Ferma a 48 punti E poi c'è la Juventus a 44 ma ricordiamo Con il meno 15 quindi attualmente la Juventus sarebbe comunque ancora seconda in classifica Nel caso gli ritassero i 15 punti Comunque la Roma per il momento La carta dice Roma terza Roma terza E soprattutto è stata una vittoria oltre che importante Anche una vittoria che da tantissimo non arrivava una vittoria in trasferta E posso dire che si sentiva molto coro romano Era pieno lo stadio La curva ospiti Era piena del bagnere giallo-rosse Cioè veramente Oggi in tantissimi sono partiti Sono andati a Torino a vedere questa trasferta E sono contento perché si è sentito il loro supporto in campo L'hanno sentito anche i giocatori Perché oggi la Roma è stata grinta e tenace Non è stata una bella partita onestamente parlando Poi ne andremo a parlare Delle occasioni Però è stata una vittoria importante Tre punti fondamentali Andiamo a parlare insomma Il gol come ho detto è arrivato al 7 minuto Paolo Di Bala sul calcio di rigore Che ci stava Non voglio sentire alibi Scusa Non voglio commenti Che dice gente che non c'era rigore Perché rigore Cioè Come fai non da quel rigore A mano così Cioè Stava Stava Palla a volo Cioè Mi rescilo Il braccio è larghissimo Di 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 Schurz Ovviamente calcio di rigore Spiazza Di Bala Pallone da una parte Più di inculsa Vici dall'altra E gol dell'1-0 Però la Roma Ha anche altre occasioni Comunque in totale 9 tiri Le ha fatti Però solamente un tiro in porta Non abbiamo praticamente tirato in porta Di Bala mi è piaciuto tanto Si è mosso tanto Anche a Gito Non abbiamo giocato con una prima punta Abbiamo giocato con Di Bala Falso 9 Ha supporto Sol Bakken Ed esce a Raui Che anche oggi è un'altra grande Parere di stazione Sia in fase di Di aiuto Squadra Ma anche in fase di Ha messo tanti palloni in mezzo E poi ragazzi Secondo me Secondo me La Lì dietro ragazzi Con Wijnaldum Sulla mediana È una sicurezza Con Gini Wijnaldum Mamma vicino a Cristante Acquisisce valore anche Brian Cristante Perché anche oggi Cristante Mi è piaciuto tantissimo Con vicino Wijnaldum Ha questa sicurezza Si vede in campo Si vede in campo Cristante è cresciuto tantissimo Da quando ci gioca Wijnaldum lì Lì diciamo Può giocare anche Matic Però secondo me Wijnaldum Non lo puoi togliere Quindi o gioco Cristante O gioca Matic Ma Wijnaldum Non lo puoi togliere In questo momento È intoccabile E Zaleski Da una parte Spinazzola dall'altra Bene Le fasce non è che Mi siano piaciute tantissimo Oggi onestamente Pochi palloni in mezzo Onestamente Più lavoro difensivo Benissimo ragazzi Ancora una volta Llorente Llorente deve Deve giocare Sto ragazzo Deve giocare Merida titolarità Perché sta conquistando Oltre che Terreno e terreno Ha conquistato anche Il posto titolare A Discapio di Baniez Che secondo me È giusto In questo momento Promuove Il ragazzo Che è sempre Uno dei migliori Ultimamente Diego Llorente Insieme a Smalling È un pilastro Smalling ancora una volta Secondo me Il migliore in campo Ve lo dico subito E secondo posto Ci metto Llorente Terzo posto Ci metto Wijnaldum E Dybala Mancini Bene Ordinato Anche lui Pulito Zero falli Da capitano Da leader Anche lui Bella prestazione Rui Patricio Decisivo Ha fatto un po' Di preparate Perché Torino Ha fatto un tiro In porta Pericoloso Con Vlasic No con Vlasic Con Pellegri forse Non mi ricordo Un tiro pericoloso In cui ci ha messo I guantoni Rui Patricio No Era su Non mi ricordo Mi pare Pellegri Ma non ne so sicuro O Pellegri O Vlasic Nel secondo tempo Ha fatto un paradone Un paradone Rui Patricio Importante No su Miranciuk Su Miranciuk Paradone su Miranciuk Importantissimo Di Rui Patricio Che appunto Blinda All'1-0 Della Roma Adesso Siamo terzi In classifica Quindi sangue Calma E sangue Freddo Si va avanti Si va avanti Ancora a tre punti Importanti Perché la Roma Adesso è terza Dobbiamo mantenere Questa posizione Sperando che magari La Juve Fa questo favore Oggi alla Roma Magari vince Con i nostri cugini Speriamo Io onestamente Ce le spero Anche se comunque Lazio sta in formissima Una partita da tripla Come ho detto Vedremo cosa accadrà Vi ricordo di seguirmi Nel post partita Anche di Lazio Juventus E di Andare a recuperare La live reaccio Vedete vedere la mia reazione Mentre esulto Dopo il gol Cliccate il link Cioè Cliccate il link Che trovate qua sotto Nei commenti Oppure qui Vi comparirà Tra qualche secondo Qui Lo cliccate E venite a vedere La live reaccio Da Giapizzi è tutto E noi cominciamo A un prossimo E ragazzi Sempre E comunque Forza Grande Roma Dai Dai Paolo Dai Dai Vamos Dai Paolo di Bala Godo Godo Dai Paolo Ciao Ciao